ma bella tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video e questo qua è più che altro un video blog qua siamo dovremmo essere in live e vi dico questo qua è una specie di annuncio che adesso vi dirò e sto parlando che vi dico già che stasera non so verso le 9, 9 e mezza vi dico già che questo qua non è un evento però se qualcuno vuole venire siamo qua alle giostre di Limena siamo alle giostre di Limena perché siamo venuti qua a fare una specie di vacanza qua siamo a Vicenza poi abbiamo sentito che c'erano delle giostre a Limena lo stasera ci andiamo anche se molto lontano da Vicenza e tra poco ritorneremo a casa nostra vabbè qua siamo in una specie di bosco che con un lago qua al lago di Oliero lo inquadro adesso ho sbagliato anche adesso che ci penso ho sbagliato anche le inquadrature cioè un paesaggio bellissimo qua poi anche adesso mi giro perché vediamo se riesco a farvi vedere le montagne però qua così pac più o meno vedete le montagne le vedete ecco qua ciao eccomi scusatemi ovviamente può venire solo a rompere la Giorgia beh quindi siamo qua adesso vi porto un po' in giro bella lì ragazzi benvenuti in questo nostro video vi aspettiamo numerosi con molti like ci si vede alla prossima ciao ragazzi ciao 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 e vabbè adesso andiamo un po' a vedere qual paesaggio qua sono delle rocce poi qua da qualche parte c'è anche qualche grillo però non è importante lì credo che ci sia un gruppo di studenti poi qua paesaggio di numerosi turisti vediamo qua altre posizioni però tante altre non ci sono noi siamo appena usciti dalle grotte di Oliero che è stata proprio una grande esperienza quindi se siete da queste parti e non ci siete andati vi invito ad andare a fargli una gita passiamo nel fiume di Oliero come ho già detto poi qua qua su ci sono delle colline bellissime l'acqua a quanto pare è molto fredda vabbè vi dico già che forse un prossimo video sarà su Akinator però cerchiamo di arrivare a 10 iscritti ragazzi dai dai raga ce la possiamo fare vi dico già che ci sarà una sorpresa quindi ogni iscritto conta e non sto scherzando ovviamente qua c'è troppo sole cerco un punto un po' all'ombra per parlarvi no qua c'è troppo sole vabbè non riesco a trovare un bel punto forse qua siamo sotto ecco qua siamo all'ombra quindi spero che ogni iscritto è importante ragazzi ve lo giuro quindi cerchiamo di provare ad arrivare a una quota tipo a 10 iscritti ma io un secondo che qua è un po' sporca la camera ecco qua beh allora quindi se stasera anche non venite venite non soprattutto per me lì alle giostre prelimina ma andate soprattutto perché ci sono delle attrazioni veramente molto belle che poi da fare quindi quindi venite spero che siamo in live se no non riuscite a vedere il video però lo stesso anche domani ci sono le giostre quindi però se lo state vedendo il 16 il 16 agosto domani è l'ultimo giorno delle giostre quindi lo stesso andateci e ricordate che oggi io faccio questo video oggi dandovi questo annuncio perché insomma perché 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 anche oggi ci sono i fuochi d'artificio quindi venite oggi siamo a Ferragosto quindi buon Ferragosto adesso vediamo un po' cosa posso far vedere dai raga qua sono dei sentieri incredibilmente guarda qua qua si può inciampare guardate che bello adesso saliamo anche su una roccia per vedere meglio il clima com'è ecco qua raga guardate guardate che bello qua c'è qua c'è si schiato dal caldo in questi giorni qua a Vicenza come già ripeto ero a Milano con i nonni quindi non sono riuscito a caricare perché il wifi perché il wifi era diverso e ecco qua il fatto vabbè allora credo che fra poco dovrò chiudere però non importa raga andiamo a fare ancora qualche bel giretto qua c'è cerco di coprire il sole per che così venga un bel video qua c'è una specie di apertura ve la faccio anche vedere adesso secondo che ci arriviamo guarda 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 che pianta guarda che pianta strana qua ci rischia di inciampare raga quindi ecco qua siamo arrivati adesso inquadrerò guardate qua c'è anche c'è un pesciolino allora e adesso cercherò di inquadrare i pesciolini e ricordate chi vede chi vede i pesciolini metta like e chi non lo vede lo scriva nei commenti bene poi qua è pieno di rose quindi non sono rose ma io non riesco a passare ritorniamo subito ecco qua e beh guardate qua quanto è fitto guardate poi anche il cielo e le montagne anche gli alberi qua sono giganteschi anche qua sono abbastanza grandi beh questo è quello che che vi volevo dire beh allora spero che il video vi è piaciuto qua da giugno è tutto ciao bella raga grazie a tutti